Con il capitano del Sarzana Matteo Pistelli, autore di una bella prestazione, due gol, vittoria importante. Forse l'avete sentita anche troppo perché dopo il 4-0 del primo tempo magari la gestione non ve la aspettavate così del secondo tempo, troppi cartellini magari. Ma diciamo che sapevamo di venire qui e fare una partita tosta anche sotto il punto di vista fisico. Loro sono una squadra molto dura e quindi sapevamo che comunque una partita non si chiude mai qua a Grosseto. 4-0, non è mai chiuso nell'hockey. È stato bravo anche il nostro portiere a tenersi abbastanza in vita. Comunque sono ampiamente soddisfatto della partita che abbiamo fatto e sono molto contento dei miei compagni. 20 punti, siete praticamente un bel bottino quello fatto oggi a Grosseto. Mancano tre giornate alla conclusione, come vedi questo finale di stagione? Diciamo che abbiamo raggiunto il nostro obiettivo che era quello della salvezza con ampio margine e sicché adesso siamo tutti giovani, a parte io e basta. Quindi praticamente adesso diamo ancora più spazio a loro perché è giusto che crescano, perché comunque questa squadra è stata fatta per far crescere i giovani nel nostro vivaio. Allora, complimenti per l'obiettivo, è buon divertimento, divertirei anche tu a giocare con i giovani? Certo, io mi diverto tantissimo. Stamani era lavorare, io faccio il cuoco, appena sono uscito sono partito, ma questo è divertimento per me, se no non lo farei. Buon divertimento. Grazie mille, ciao.